E' normale che va a scoppiare la terza guerra mondiale tesoro mio, tu vai a mettere il dito dove non lo devi mettere Per chi non lo sapesse questa ragazza qui qualche giorno fa ha fatto un podcast dicendo questo Un po' strano il sud, vanno in spiaggia e pranzano in spiaggia tipo con la parmigiana, quelle cose lì Per la signorina noi che ci mangiamo la parmigiana arriva al mare sotto l'ombrellone siamo strani Lei che di mestiere adrizzo le banane tutto regolare Scusatemi però quando ci vuoi non ci vuoi A momenti piangevano dicendo che la parmigiana non si tocca, è solo una parmigiana Per te che devi sparare solamente minchiate durante il giorno è solo una parmigiana Invece non è così, quella è la parmigiana, è una differenza chi tu e chi raccomattai non potranno mai capire Molti amici del nord e non vedono l'ora che arriva l'estate Vengono apposta al sud per vivere questi momenti, invece per te non siamo strani A noi se ci tocchi l'osso buco comunque non facciamo tutte queste scene È normale che non fate tutte quelle scene perché stiamo facendo un paragone che non ha un genere proprio nulla Lo so buco con la parmigiana Guarda io ti invito a venire al sud a mangiare la parmigiana Almeno ti faccio un picco di cultura